Vai Kevin! Mamma mia! Che cosa stavo per fare? Ecco uno! Ecco la due! Non è vero! Non è l'ultimo! Manu! Belgio, 22 anni, Milan. Charles, di che te l'era? Oh, non dobbiamo! Dai, Zabu! Belgio! Dai Manu, che buona, eh! Ehi! Dai, oh! Uno! No, uno, due! Uno! Sono scherzo! Italia! Eh! Vai, siamo presto facile! Barella! No! Maschirotto! Era Maschirotto! Vai, Panko! Mamma mia! No, brutto! Vai, vai, vai! Vai, Panko! Vai, Manu! Mamma mia! Mamma mia! Portogallo, 38 anni, Alnasro. Cristiano! No!